LADY WHISTLEDOWN Avete letto cosa scrive Lady Whistledown ultimamente? Ancora quelle cronache scandalistiche? Questa è diversa. In questa la gente è chiamata per nome. Mi chiamo Lady Whistledown. Non mi conoscete e non mi conoscerete mai, ma vi avverto, gentili lettori, io di certo conosco voi. La stagione mondana è alle porte. Scopriremo quali giovani donne riusciranno ad assicurarsi un buon partito. Sia ben chiaro, con ovunque possibile scandalo, io di certo lo scoprirò e ne condividerò ogni singolo dettaglio. Grazie. 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 Grazie.